buonasera 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 ciao bruno anche tu in live bene 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 ci facciamo concorrenzia allora allora vediamo un po se arriva qualcun altro in teoria stasera ci dovrebbe essere un po di gente ciao alemanda ciao buonasera anche a te vediamo quanti parteciperanno stasera visto che vediamo se riusciamo a finire il girone di andata e qualificarci anzi qualificarci essere promossi in serie a allora vediamo un po vediamo un po notifiche ok perfetto direi che possiamo anche cominciare visto che sono otto partite che ci mancano vediamo vediamo vai perfetto ma facciamo anche atmosfera ok benissimo allora possiamo avanzare avanzare con questa z proprio bella avanziamo la prossima partita contro l'ascoli il microfono un po più vicino ok contro l'ascoli le divise vediamo tutte nere oh vedi che bella questa arancione scemo di gioco allora vediamo un po allora c'è il bode che è in super forma goccioni anche e per il resto diamo una possibilità ancora ad agi che deve crescere c'è michelotto in forma vai si può partire partoriamo vediamo vediamo di fare ste otto partite vediamo se ci riusciamo a farle stasera otto partite e ottenere la promozione in serie a col nostro zoccolo duro poi ci sarà da divertirsi in serie a se riusciamo se no ci rifacciamo un altro anni se vi allora oh si doti buonasera buonasera anche a lei si parte eccolo qua si doti proprio lui fa subito i numeri giustamente michelotto stien ugo cioni scatta poleman michelotto ha visto il cume eeeh no il cume non è partito bene oggi sarà il fatto di stare in coppia col bode che lo emoziona molto il bode il cume il cume il cume il cume subito e meno male che non era partito bene poleman salve poleman si lei è vip è il nostro vip che gol ragazzi che gol guardalo lì boom come dice il cume boom il bode l'allenatore è mario diciolla come il portiere oh francone grande sei in panchina questa partita perché c'è il bode che infatti era molto in forma ha fatto un assist eeeh no non sono coincidenze paul arrivi tu e segna il cume io vorrei anche il cume in live però eh io glielo ho detto ma sembrerebbe che visualizzi e non risponda strano non è dal cume attenzione asbrald proprio lui 2 a 0 2 a 0 2 a 0 proprio lui proprio lui che inserimento signori anche mario ci vorrebbe il guarda il bode secondo assist di giornata con no look vabbè bordata sul primo palo e di solito non visualizza è vero ragazzi che partita contro l'ascoli vogliamo la serie A veramente partenza col botto non ho guardato l'ascoli in che posizione fosse ma signori siamo troppo in forma guarda il bode paul vuole partire lui il cume ancora per paul ancora per il cume non si intendono appena i due si lo striscione è bellissimo ci sono vari striscioli peccato che se ne possono mettere solo quattro mi sembra o cinque sennò ce n'erano da mettere eh si non è non è dal cume non è proprio da lui visualizzare non e non rispondere guarda che scambi guardalo paul guardalo eh troppo piccolo c'ha il fisichino vip vuol dire che sei privilegiato su tutti non sei moderatore quindi non puoi bannare mi sembra ma praticamente se io metto chat solo emoticon tu puoi scrivere anche solo cioè puoi scrivere le parole invece dell'emoticon se io metto come si dice chat solo abbonati e tu non sei abbonato tu puoi scrivere comunque ecco metto chat lenta ognuno può scrivere un messaggio ogni minuto tu puoi scrivere ogni due secondi cioè hai tutti i vantaggi di sto mondo sei un vip un po' come michelotto che è moderatore però lui può bannare attenzione qua ci stiamo comunque perdendo e francone si fra un po' ti farò anche vip fra un po' però francone ha ha bruttissimo brutto bruttissimo guarda il bode signori oggi il bode è in forma splendida anche il cume attenzione e là grande michelotto il cume no era per poll ma dai io l'ho data indietro però eh grandi privilegi sì poi su un canale che decolla fra un po' decolla decolla destucco non si sa bene di che materiale stia fatto però guarda poll guarda poll ci prova a giro ci prova a giro no poll di testa no ci è arrivato vabbè che cos'è l'altro ieri ha segnato pure di testa cioè attenzione attenzione quarantacinquesimo perché pes ha preso il peggio di fifa cioè ha copiato il peggio di fifa il gol al quarantacinquesimo la chat lenta eh perfetto grazie pes grazie mille un tiro ha fatto un tiro andiamo avanti andiamo avanti secondo t è un po' dai ragazzi chiudiamola sta partita abbiamo fatto due gol in undici minuti poi ci siamo un po' persi poi pes decide di far segnare al primo tiro al quarantacinquesimo vabbè classifica siamo secondi a due punti dal primo che è il cittadella mi sembra io ho una memoria de ferro proprio bravi ragazzi va va bene va bene va bene va bene che brutto bravo stean guardalo lì che giganteggia però non sa passare il prof il prof signori dai paul dai paul combatti niente oh non teniamo più un pallone il bode bravo il bode paul sbaglia tutti i passaggi oggi come siamo ronald in classi p no vabbè attenzione e non riusciamo più a tenere palla signori com'è sta roba c'è troppo troppo vigore in chat i giocatori si distraggono a scrivere in chat attenzione ok andiamo di qua ciccio sidoti attenzione i giochetti di ciccio sidoti agi per ugoccioni ugoccioni sempre presente anche in chat si francone fra un po' facciamo il cambio adesso non so chi è il più stanco tra il kume e il bode però il bode ha fatto due assist quindi toglierei il kume mettiamo uno un po' più rapido più agile beh ragazzi oh eh niente niente i passaggi i passaggi ciccio sidoti asvrald proprio lui si restreggia e perde palla bene 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 vento le carte no ragazzi no 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 non va bene concentriamoci non giochiamo a carte che sennò qua la perdiamo pure sta partita quando si ferma il gioco che devo fare entrare un po' di gente Paul attenzione a Paul da lì ha già fatto male bravo michelotto dai bode sidoti per agi michelotto michelotto bene per il kume Paul la vuole incrociare Paul attenzione viene praticamente investito da un tir per il bode asvrald subito dentro per il bode ancora la può tenere vicino alla bandierina no no non esce più la palla è assurdo eh c'è pass veramente per far uscire il pallone dai kume ah attenzione e finisce e finisce e finisce e c'era lì vocina così che aspetta si scalda aspetta sono pronto ad entrare sì sì 25 minuti no sì beh 20 minuti vabbè dai partita dominata il kume migliore in campo mario diciolla 5 stian 5 e mezzo goccioni 5 e mezzo va bene ci ha segnato danilo petrucci o john petrucci cittadella ha perso 4 a 0 siamo primi siamo primi e manca un minuto no no non è vero mamma mia signori la serie a sentite che odore mmm che profumo di serie a andiamo alla spezia qui saremo un po' stanchi e quindi giocheranno un po' di riserve riserve quelli che non hanno giocato in questa partita allora bianchini è morto mettiamo gervasi e gian grosso già pep ok e no no sidotti lo teniamo il bode è morto mettiamo togno mettiamo matteo e e e basta gli altri vanno bene così le maglie vediamo mettiamo la terza dai terza maglia in onore del venezia in onore del venezia ma è successo qualcosa perché mi da uno spettatore solo se eravamo in cinquantamila a rapporto signori della chat vai si cominciò vignali subito michelotto a farsi rispettare di testa facciamo girare facciamo girare palla c'è un grosso che si inserisce sempre incredibile ah ok ok è il coronavirus che ammazza mi dissocio signori di twitch attenzione michelotto signori michelotto eh già ce ne sono pochi infatti bravo gervasi che non vende vasi dai francone eeeh che passaggio brutto però brutto bruttissimo girvasi eeeh i nostri centrali difensivi signori l'amico di michelotto attenzione è scattato lui c'è dentro il cume lui la dà a francone che non ci arriva mamma mia eeeh dai michel dai michel attenzione bravo sidoti dai togni no vabbè tognin bravo gervasi il cume per l'amico di michelotto che vede francone ma francone si ferma e non scatta ok ok si è ristabilito il counter qua nooo ma da ma si sono come due imbecilli bravo gervasi solido in difesa gervasi solido in difesa gervasi eh degno antonio donnarumma bel giocatore eh francone attenzione a francone ci prova da fuori eh ci ha provato dai guarda come si destreggia tutto opp eh dai fuori di molto però almeno ci ha provato dai gian grosso bravo gian grosso l'amico di michelotto se ne va incredibile ma non ho capito cosa hanno fatto i miei giocatori in questa azione qua bravi così adesso si bella il tacco di francone però poi pol ah francone signori fa valere il suo fisichetto francone per il cume il cume ciao alessio bianchi eeeh non puoi ancora abbonarti al mio canale mi manca pochissimo ancora qualche giorno eeeh posso attivare gli abbonamenti aaaah dai ragazzi dai appresta guarda michelotto in attacco incredibile eh scufesi ma mi sembra che sia stato rovinato dalla famiglia che non voleva che giocasse perché aveva avuto un'importante offerta di di contratto mi sembra attenzione mario di ciolla signori che uscita valanga si doti per tonin aaaah troppo lunga si combatte ancora oh grazie mille grazie attenzione quando abbiamo preso il gol al recupero zero minuti di recupero loro segnano a due e trenta bene 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 adesso battiamo e fischia assurdo bene così andiamoci a riprendere sta partita ah mi sa che sono stati gli spezzini che non vogliono che recuperiamo la partita attenzione attenzione eeeh poll dai bravo gervasi guardalo che combatte ma ce l'hanno sempre loro mamma mia eh questo è fallo certo dai dai avanti 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 via 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 fuori subito fuori subito via 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 Mamma mia Guardalo lì Rivediamo la nazione perché è bellissima Il cume sulla fascia Rientra sul destro L'amico di Michelotto Ci stava quasi Calcio d'angolo Chi è? Francone Ah no Tonin Signori Tonin Tonin Il braccino Colpisce di testa Mamma mia signori Mamma mia Il tonno Andiamo a vedere lo stacco di testa Cross perfetto di Paul Tonin Sovrasta il giocatore che è Il doppio più alto di lui Spettacolo Bene così Dai l'abbiamo pareggiata Andiamo a vincerla Assolutamente Sì cume Dai Francone Ah no è Paul È Paul Mannaggia lui Ancora Paul Si inserisce Paul Attenzione Eh però non mi fa i dribbling È la gara di Tonin Voto 104 Il cume Il cume Francone Paul ci prova Mamma mia La stiamo dominando Signori Sì sì L'amico di Michelotto Bellissimo Eh ho fatto un po' di Un po' di chicche Su sta squadra qua Attenzione Michelotto che Bravo Gervasi Bravissimo Gervasi Paul Michelotto Il cume È partito Non è fuori gioco Oh Oh Ma è trattenuta Andrà in tv a gareggiare Chi? Tonin? No non la so sta roba A far cosa? Giochi senza frontiere I ragazzi del pulmino giallo Dai dai Oh ragazzi Ottantesimo Non la prendiamo più qua Ah su assetto corsa Ok ok No ma si era fermato Mannaggia Allora Eh mettiamo Vediamo Vediamo Mettiamo agi E va bene così Cioè su assetto corsa Vabbè su assetto corsa ci sta Ci gioca talmente tanto Che in teoria dovrebbe essere anche bravo In teoria Poi Vabbè Dai francone Dai francone Cume non andare in fuorigioco Si è inserito Tonin Ancora Tonin No Pallo di Tonin L'amico di Michelotto fuori Che palo di Tonin Oh salve Amedeo Il piccolo Amedeo Ma guarda Tonin Ma guarda Tonin Che palo signore Vabbè poi l'amico di Michelotto Spara Al quarto anello Va bene Dai ragazzi Manca cinque minuti Non prendiamo gol Mi va bene anche il pareggio Piuttosto che perderla Però Una partita così dominata Andrebbe anche vinta No Il Bode Ragazzi il Bode È fuori forma Ma c'è il Bode Comunque Ancora lui Tonin Per l'amico di Michelotto Ma perché Io l'ho data al Bode L'ho data Mannaggia Bravo Michelotto Francone L'amico di Michelotto L'amico di Michelotto L'amico di Michelotto Al 92esimo All'ultimo minuto Arriva il gol La rete del vantaggio Mamma mia Incredibile Che inserimento Portiere a farfalle Portiere a farfalle Ma è giusto così È giusto così Sì Sì Quanto godo signori Quanto godo Dai loro hanno fatto Un tiro in porta Un tiro in porta Oh Tonin migliore in campo Si doti 4 e mezzo C'è i due terzini Peggiori in campo Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Abbracciamoci forte E vogliamoci tanto bene Allora Allora Il Cittadella Ha perso ancora Basta Siamo più 4 Signori Siamo a più 4 Mancano 6 partite Eh non sei simpatico I giornalisti È vero Adesso giochiamo Dopo 2 giorni Col Pordenone Qui saremo Stremati Stanchissimi Ok Vediamo un po' Siamo completamente morti Allora Amedeo Lo possiamo mettere Ugo Cioni Lo possiamo mettere Così si riposano Facciamo Riposare Eh no Però Paul è in forma No 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 Facciamo riposare Michelotto Mettiamo il Tudo E il Bode Al posto Di Veneziano Si E gli altri Sono morti Quindi Ok Va bene Così Divisa Intera No Pijama Vai 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 Vogliamo questa serie A Ai 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 Ma che dolore I contrasti Premi rapidamente Due volte A Stavate parlando di me Dai ragazzi Allo stadio Mario di Ciolla Comincia Zoccolo duro Pordenone Agi Perfetto Agi ha sbagliato subito Il primo passaggio Bene 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 Chissà se in serie A Diventerà Il giocatore Che tutti noi Conosciamo Ma Per adesso in serie B Non sta brillando Purtroppo No Non è fallo Questo Si È fallo Palla piena Via 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 Fuori subito Bravo Paul di testa Signori Bravo Bode Di fisico Ci pensa lui È scattato il Bode È scattato il Bode Il Bode Il Bode Il Bode Il Bode Sul primo palo Perché è sul primo palo? Vai Vai un'altra incornata Vincente Francone Traversa Ma l'ha toccata Al portiere Mi sa L'ha toccata Al portiere Andava fuori Vabbè Bene così Vai Si Bode 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 di testa Miracolo Che miracolo Mamma mia Amedeo Signori Amedeo Il Bode Il Ma chi è sto portiere Signori Chi è? Cioè ma neanche Buffon In super form Oh Il Bode Il Bode scarica Sotto l'incrocio Sotto l'incrocio Sì sotto l'incrocio Mamma che gol Signori Il Bode Apprezziamo Ammiriamo La caparbietà Del Bode Che Mamma mia Mamma mia Signori Questo È il Bode Che vogliamo Beh quasi sotto l'incrocio La bomba Bodiana Buona sera Anche a lei Michelotto Partite un po' Curiose Stasera Molto Curiose Bravo Il prof Francone Per il Bode Hasbrald Ci prova anche lui Da fuori Non ce la fa Però Non va Vai a pressare Ragazzi Dai Grande Bode Sta un po' Spaccando le partite Il Bode Due assist Nella prima Nella seconda Non mi ricordo Ma è in questa Bomba Sì Bravissimi Così Ragazzi Hasbrald Ah Mannaggia Guarda il Tudo Quando vede una palla La vuole recuperare Mi dissocio Vai contro piede Il Bode Bode è partito È partito il Bode Signori Partito È lui Proprio lui Si accentra Non è neanche calcio Non è neanche calcio d'angolo Signori Nemmeno calcio d'angolo Speravo Un qualcosa Un rigore Un gol assegnato Così a tavolino Bravo Amedeo Paul Era per il Bode Sta palla Però Avevo puntato Dall'altra parte Bravo Il Prof È partito il Bode L'ha visto Sì Bode Combatti Bravo Bravo Agi Ha capito le intenzioni Dell'avversario Di far uscire il pallone Per conto suo Paul Hasbrald Passaggio bruttissimo Passaggio ancora peggio Se si può Se è possibile Bravo Francone Questo è un giallo assicurato Se non rosso No Giallo Mamma mia Si è chiusa la vena Francone Attenzione Perché fanno autogol Si Bode Si Bode A pressare La mia era una finta Per fermarsi Però Dai tutti i pressing Ragazzi Tutti i pressing Forza Ragazzi Sveglia Guardalo Paul Con il suo fisichino Con le sue gambine Dai ragazzi Stanno tenendo palla Molto molto bene Quelli del Pordenone È il 45esimo Occhio Occhio al gol Buggato Francone Il Bode Il Bode Che si è mangiato Il Bode Signori Sette Tiri a zero Ok Mamma mia Ragazzi Mamma mia Come stiamo giocando Veramente Però noi Il gol Buggato Il 45esimo Non riusciamo a farlo Però il 90esimo L'abbiamo fatto prima Fallo Fallo Eh Signori Il Bode Calcio Più che champagne Calcio Prosecco Tutti i veneti Che abbiamo in squadra No Che passaggio era Sidoti No È un guoccio È un guoccio Chiedo scudo Calcio Prosecco Attenzione Mamma mia Il fisico del Bode Signori Il fisico del Bode Sovrasta tutti In attacco Si prende giu Occhio Uh Attenzione Attenzione Mestian Francone per il Bode È scattato Paul È scattato Paul Non lo prendono più Non lo prendono più Incrocia Me ne vado Me ne vado Non può sbagliare Una roba del genere Ma vuoi perché tirano Appoggiandola Ma scarica una botta All'incrocio Boh Non ho capito Non ho capito Eh vabbè Paul Veramente Gli tolgo il VIP Adesso Ma dove va Dove va Goccioni Bianco Bianchini Attenzione Scivolata a vuoto Amedeo A vuoto Anche lui Mamma mia Una partita Più che dominata 66% Di possesso Palla Loro però Quelli che han tirato Siamo noi Bravo Francone Bode Agi Agi per Paul Paul ha visto il bode Che è scattato Il bode per Francone Francone Scivolando Francone Scivolando Eh Amedeo si Ha la testa vuota Inutile Francone Scivolando Signori Che azione Buon Controtempo Alla CR Barra Sì Alla CR Slash Francone Vocina Grande Vocina Dai 2 a 0 Signori E' Fatta Ancora Francone Era una finta Quello Ho visto che il bode E' morto Attenzione Via E via Perché se no Moriamo in campo Francone Ammonito Alla Dibas Eh sì Quelli sono i gol Che fa Dibas Contro Ala Azie Quando il Napoli Già pensava Di aver vinto Bellissimo Che avessimo pareggiato Contro La Lazzie Invece Il 93esimo Tac Di bala Comunque Concentriamoci Sulla nostra Paul Asbrald Proprio lui Nooo Questo è fallo Però L'ho sentito Vabbè La mozzarella Parellina Di Franco Attenzione Bravo Amedeo Mamma mia Amedeo Che mi combini Agi Facciamo uscire Sta palla Per favore Dai Francone Bode Morto Il bode Morto Oltre che Essere Porco Albino Che meraviglia Che è stata Quella Diretta Lì Oh E devo fare fallo Per far uscire il pallone Bravo Goccioni Mi piace Mi piace Adesso Paul di testa Signori Ancora Paul di testa Incredibile Di piede Non riesce Ma di testa Si Oh Vai Vai Il cume Che fresco Dai E' partito L'amico di Michelotto Il cume No Era per il cume Francone Il cume Il cume Il cume Il cume Il cume Sotto la curva Io sto a chi Tutti calmi Tutti zitti 3 a 0 La chiude lui Signori Questo è un tiro Paul Mi raccomando Impara Questi sono i tiri Incrociati Di prima Boh Vai 3 a 0 Nettissima 3 a 0 Cume E' finita E' finita Senza l'accento E' finita Perché se no Non è corretto Con l'accento Attenzione Mini laggata Oh Ce la facciamo 92esimo Manca un minuto Siamo sopra E manca un minuto Ah Ok Grande assist Di francone Albero E' finita Albero Ah Vabbè Deve fare prendere Almeno il 6 A Mario Di ciola Va bene E andiamo Siamo troppo forti Sì Queste micro laggate Sono per colpa del sistema Diamo fastidio Signori No 12 tiri A 0 Loro hanno fatto Solo possesso palla Bode migliori in campo Ugo Cioni 4 e mezzo Vabbè Sian 5 Mario 5 Va bene Va bene I voti di Pes Cioè Non prendiamo gol Più 5 sul Benevento Bene Benevento Vai Andiamo A casa di Gia Pep Che giocherà Titolare Ovviamente Allora Gli 11 del mese Michelotto Bode E Tonin Signori Michelotto Attilio Tessera Si è scordato Di schierare il Pordeno E beh Giusto Allora Cambio di ruolo Operaggi Giocatore di squadra Va benissimo Allora Mario 84 Più 1 Io Più 1 Il Cume Più 1 L'amico di Uncredotto Più 1 E' un 70 Ma gioca benissimo Ok Guadagni di aprile Ufficiale Rapporto budget Vediamo Voglio vedere un po' Budgetingaggi Siamo ancora meno Però Dai Falliremo Andiamo a casa di Gia Pep Ok Io sono morto Mettiamo Tonin Ok E Sidoti è morto Poi c'è il Bode C'è Giangrosso in forma C'è Mettiamo Gervasi Anche Quelli in forma Si mettono C'è anche il Tudo in forma Ma anche Michelotto in forma E Michelotto è Già Gia Pep Accusa un misterioso Virizio intestinale Prima della partita E invece No E invece no Lui vuole giocarsela Sta partita Attenzione Dobbiamo sceglierci le divise Mettiamo quella Nera No anzi Però loro Ok Vai Andiamo A Juve Stabia Castellammare Castellammare di Stabia Il paese La città Dove nacque Il buon Fabio Quagliarella Fabio con tre B E stadio del Martingal Proprio lui E si parte Vai Portiamola a casa Anche per Gia Pep Che ci tiene Se ci sarà un calcio di rigore Lo farò tirare a lui Vi avviso Michelotto Eeeh Non è fallo però Guardalo Gia Pep Subito in pressione E si perde l'uomo Attenzione Ah è fuori gioco Eh Mi sembrava Ha fatto un miracolo Mario Mamma mia Guardalo lì Non è fuori gioco Non può essere fuori gioco In linea col pallone Boh Va bene Accettiamo Però Gia Pep Si era perso Il pallone L'uomo Guarda Togno Guarda Togno Le giocate Di Togno Il bode Ah Mannaggia Il bode Occhio Che siamo Scoperti Si è venduto La partita Vediamo 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 alla fine Come sarà Ecco non riesce a contrastare L'avversario Quindi mi sa di si Si perde l'uomo E protesta anche Bravo Meno male Ci abbiamo Gervasi Il cume Spondone Mamma mia Ste trattenute Eh bella chiusura Di Pep Bravo Almeno per dimostrare Per far finta Di non essersi venduto La partita No Paul Partita più difficile Del solito Ma Lo stabia comunque La squadra Ce l'ha Già Pep Tonin Il bode Chiede lo scambio Con Tonin E' partito Tonin Sulla fascia Attenzione Proprio lui Tonin Per il cume Il cume si gira Nulla di fatto Però Bella azione Sulle fasce Giangrosso Stavolta Se la fa prendere Si fa anticipare Di testa Incredibile Pensa che Già Pep No Vabbè Ha pagato anche lui Attenzione Attenzione Mario Di Ciolla Parata Signori Questa È dura È dura Bravo Mario Non ti sei venduto Attenzione Bravo Paul Sì Paul Fai andare Quelle gambine Tonin Fai andare Quelle braccina Annaggia Annaggia la miseria I bracci Bravo Paul Tonin È scattato il cume Gliela da malissimo Questi sono i passaggi di fifa Ma il cume se la riprende Vede dentro il bode Il bode di te Che craniata Si sono ammazzati Nella realtà Si sarebbero ammazzati Attenzione Due morti in campo Invece del cartellino rosso Cartellino nero Purtroppo Rip Salutavano sempre Paul Il cume Si gira il cume Fallo Vai Punizione dal limite Quasi rigore Mamma mia Ah troppo Troppo Mannaggia Mannaggia Paul Forse sul palo del portiere Non ne capitano spesso Quindi non puoi neanche allenarti bene Sulle punizioni in partita Perché in allenamento È una cosa Bravo Paul Tonin Il bode È scattato Paul Uno stop Che è tutto un dire Attenzione Guarda Ugo Cioni Come combatte Bravo Ah il bode Bravo kume Bravo Smista Tonin Il bode Per Paul 45esimo Facciamo il gol Buggato Vi prego Ah Niente Va bene così Dai 0-0 Fine primo tempo Equilibrata Molto equilibrata La decideranno La decideranno i cambi Chissà Vai col secondo tempo Il kume Per Aji Aji è lentissimo Aji Ancora lui Si destreggia Michelotto Tonin Era per Paul Era per Paul Completamente Dall'altra parte Attenzione Il bode Il bode Signori Il bode Che succede? Bugo? Vabbè Giangrosso Il kume Paul Il kume Il bode Dai Giangrosso Dai Svetta Bravissimo Paul Ha visto Aji Ma niente Bravo Michelotto Per Aji Il kume C'è Paul E' scattato Paul Ancora lui Il dribbling Signori Il dribbling Io sono abituato A fare dribbling Su FIFA Non mi vengono Questi qua Su Su PES Michelotto Per Aji Il kume Paul Niente Partita collosa Cheat Vai bode Si bode Si bode Sotto l'incrocio Magari Eh Volevi Eh vabbè Va bene Va bene Sempre Giangrosso Si fa anticipare Però Bravo Gervasi Il bode Niente Siamo anche lenti Anche con i giocatori Più veloci Siamo lenti Eh Già Pep Bravo Non si è venduto La partita Allora E' partito Michelotto Michelotto La bordata Da fuori Michelotto Mamma mia Amiche Che inserimento Da campione C'era Da dagli La mare Al kume No Il kume era Era leggermente Defilato E marcato Facciamo qualche cambio Mettiamo Mettiamo Francone Mettiamo Sì lui Amico di Michelotto Va bene Così Perché poi Gli altri Sono morti O non servono Dai ragazzi Boateng Signori Allo Stabia Boateng Francone L'amico di Michelotto Due nuovi entrati Se la giocano fra di loro Incredibile Francone Ancora l'amico di Michelotto Sempre lui Credibile Paul Aggancio Elegantissimo Francone Ci prova Francone Che parata Che parata Guardalo lì Stop Ma vabbè Stop elegantissimo Paul E Francone Subito Stop e tiro Dai un'incornata Francone Mannaggia Francone Ma no Pensavo fosse uscita Bravo Goccioni Sì Francone Ah Mannaggia Francone Vi tirarono Una bella Sleppali Invece Occhio Occhio Se ne è andato già Pep Mannaggia Mannaggia che si è venduto la partita Bravo Francone Appoggia per il bode Grande sponda Tonin Ce la può fare lui Credibile Tonin Le sue finte Il bode C'è Paul C'è Paul C'è Paul C'è Paul Mannaggia Paul Morto Che è successo Ha fischiato fallo Eh Era un tiro però Vabbè Giustamente Gli ha spezzato la gamba Spezzate i gocci Dai ragazzi Manca 9 minuti Francone per il bode Il bode È fuori gioco Fuori gioco Mamma mia L'avevo visto Ho fatto troppo Eh Gli ha dato Troppo tardi Non così E occhio Che lo prendiamo Occhio Bravi Bravo Francone Si destreggia Michelotto No Paul Però Bravo Michelotto Paul Scatato Tognin Non è fuori gioco Ma come gliela dà Perché gliela dà così Non li capisco Certi passaggi Veramente Dai ragazzi Ultimo minuto L'amico di Michelotto Paul Francone No No È fallo Quello lì Albero Guarda l'amico di Michelotto Che salva Paul di testa Perché c'è Paul lì Mannaggia La miseria Niente Già Pep Ce l'ha fatta Vabbè Vabbè Secondo tempo Loro non hanno fatto Nulla Mario Diciola Migliore in campo E niente E niente 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 signori Niente di niente Purtroppo Già Pep Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Si è venduto La partita Adesso vediamo Gli altri Cosa hanno fatto Vabbè Il Cittadella Va È andato Perfetto Benevento ha perso Quindi abbiamo Acquistato Punto Eh calcio scommesse Calciopoli Oh Ci riposiamo un po' Offerte di lavoro Chi è che ci vuole Dai Vediamo chi ci vuole Tanto noi Non ce ne andremo mai Il Crotone Con tutto il rispetto Però No Devo Ignorare E basta Va bene Andiamo avanti Vai Siamo quasi in serie A Signori Eh Attenzione Che qui Ci scatta la promozione Giornata 35 Mancano 4 partite E giochiamo proprio Contro La squadra Che ci ha contattato Che ci vuole Ecco Il Newcastle Vuole già Pep O è già Pep Che se ne vuole andare Per il calcio scommesse Credenze Io non coincido Aspetta Ci danno 24 milioni E lui ne vale 16 Guarda Proprio perché fa parte Dello zoccolo duro Ma se non l'avrai venduto Subito Mamma mia 24 milioni Per già Pep Questa era per calcio scommesse Si Mi sa di si Allora Paul È morto Perfetto Allora mettiamo Tonin Qua Ok Trequartista Va benissimo Mettiamo il Bode Che è in formula Mettiamo Ugo Cioni Non al posto di Sidoti Ma al posto di Giapep Così impara C'è Giangrosso Lo mettiamo al posto di Bianchini Dai Stia Non è più presente Le maglie Le maglie Facciamo mettere quella bianca Loro Vediamo un po' Si 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 Con la bianca Vai Stadio Mario di Ciolla Va bene Dai andiamo a vincere sta partita Che è un pareggio Già Sto rodendo Rodendo Vai Sidoti Vuol fare tutto lui Sidoti Attenzione Agi Per il Bode Passaggio sbagliato Michelotto Per Tonin Attenzione Tonin fa la finta Fa finta di fare Il fenomeno Agi Per Sidoti Ancora per Agi Scambio Il Bode La mette dentro morbida Non era questa la mia intenzione Però Va bene dai Molina Crociata Mazza che è il nome Oh yeah Come on Attenzione Eccolo Ugo Cioni Che si fa subito rispettare Altro che quel venduto Di Già Pep Ma prendi Ma scatta Agi Scatta Sei letto Markovic Attenzione Molina Smolina Bravo Sidoti Agi Subito Per Il Bode Scivolatona Ok Tonin Francone Ha visto Era per il Bode Il Bode Eh me l'ha fatto andare in fuorigioco Era prima per il Bode Invece Dai ragazzi Dai ragazzi Comunque stiamo giocando ancora bene Fallo 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 Via Via Giangrosso Signori Insforbiciata Dai Francone Forza ragazzi Forza Dai così Occhio Mario Di ciò Mario di ciò No Vabbè Non ha senso Questa roba Dai Contropiede Il Bode Bode Sulla Fascia Hasbro No Di sinistro Cosa Ha sbagliato Era bella L'inserimento Era perfetto Adesso Che lo riguarda Avrei potuto Stopparla E rientrare Sul destro Andare a giro Sul destro Eh vabbè Prossima volta Se ci sarà Miseria Dai 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 Crociata Bravi ragazzi Impressing Smolina Ma c'è sempre Sidoti Sidoti fa La guardia Agi Michelotto Bravi Ragazzi Hasbrald La scarica Lui Mamma mia Tonin Tonin Brutto Bruttissimo Non è neanche fal Attenzione Tonin se la va a riprendere Perché lui dice Studio matematica Su Payday Quindi Vai Tonin Dentro Francone Mamma Che parata Che parata Su Francone Gran giocata Di Tonin L'Arabona Aveva fatto Aveva fatto L'Arabona Doveva segnare Ma non è Non è calcio D'angolo Vabbè Sulla seconda Ribattuta Pensavo L'avesse toccata Vabbè C'ho La vista Che si è Andata a farsi Friggere Attenzione Che inserimento Si ferma Che brutto Passaggio Francone Brutto Brutto Bruttissimo Bruttissimo E protesta anche Dai ragazzi Bravi così Il Bode Francone Vai per il Bode Di potenza Il Bode Ci prova Va bene così Stiamo giocando Troppo bene Hasbrald Tonin Il Bode Si gira Il Bode Ancora il Bode Niente Le stiamo Sprecando Però Ci stiamo Facendo Del male Da soli Guarda Lì Ha tirato Un calcione A numero Dieci Che Mamma mia Gli ha portato Via Tre anni Di vita Dai 45 45 Più 1 Non prendere gol Adesso Ok Fine Primo Tempo Eh ragazzi 6 tiri A 1 Stiamo Dominando Con lo stabi È finito A 0 A 0 Eh Sì Già Pep Si è venduto La partita Solo che Noi abbiamo Avuto una Difesa Di ferro Siamo Riusciti Attenzione Hasbrald Hasbrald Ci prova Da Mamma mia All'ultimo All'ultimo No No Bravo Bravo Goccioni E poi Dopo la partita Con lo stabia Ci è arrivata Un'offerta Per Già Pep Lui vale 16 milioni Ci offrivano 24 milioni Calcio scommesse Calciopoli Vai Michelotto Mamma mia Ah Si prende il giallo Qua Ho sbagliato Erdasto Ho sbagliato Agi Non riesce Neanche qua Bravo Sidoti Hasbrald Francone Per Tonin 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 Ancora per Francone Ma che Palla è Brutta Proprio brutta 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 Attenzione a non prenderlo Ma lì c'è Gian Grosso Anzi no era Si si era Gian Grosso Che fa buona guardia Cambio lato Cambio campo Per Ugo Cioni Tonin Michelotto Hasbrald E' scattato Tonin L'ha visto Sulla fascia Attenzione Proprio Tonin Sulla fascia Ancora Tonin Si fila Mamma mia Mamma mia Forse troppo Ma Tonin Di testa Che miracolo Che miracolo Ma cosa ha preso sto portiere Cosa ha preso Ma neanche Buffon Neuerter Stegen Oblak Alisson Nei momenti migliori L'avrebbero preso Mamma mia Niente sto portiere Credibile Ancora Ci prova Agi di testa Neanche di testa La prende Signore E' arrivato Bravo Agi Bravo Agi Agi Deve migliorare Perché sennò Veramente Hasbrald Ha visto Michelotto Michelotto Mamma mia Da fuori Michelotto Mannaggia 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 E' caduto Aldovi Casco rosso Per il Simonce Per il Sitch Mi dissocio Dai ragazzi Siamo a Settantaduesimo Dai forza Bravo Sidoti Vai da solo Sidoti Da solo Da solo Ancora Sidoti Sidoti Ha visto Agi 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 Si sblocca Si sblocca Lui Non vi sento Guardalo Guardalo Agi Proprio lui Che tipile Proprio lui Nel momento più atteso Dai ragazzi La discesa La discesa di Sidoti Mamma mia Agi Che bordata Termine tecnico Sta filata Come si usava negli anni Addietro Questa è la Trentacinquesima Con questa ne mancano Quattro Quindi tre partite e mezzo Ne manca Signori Agi Allora Andiamo a fare qualche cambio Via Fuori dalle scatole Via il bode E basta Va bene così Vai ragazzi Dai ragazzi Adesso abbiamo la coppia Michelotto Amico di Michelotto A centrocampo Quindi Cioè o finisce male O Mi sa che finisce male Occhio Occhio Si Ugo Cioni Bravo Non ci credo Ha fischiato fall Mi togli Eh Non si vedeva niente Va bene Va bene Via tutti Vabbè Io continuavo a schiacciare il tasto per spazzare Tanto per dire Rivediamo Qua non spazza Qua non spazza La spazza addosso all'avversario E qua Ovviamente Bene Mi sembra il Il secondo gol di Juve Di Atletico Juve dell'anno scorso Quello del 2 a 0 Dell'Atletico Rinvio sull'avversario Va bene Tutto da rifare Dai ragazzi L'amico di Michelotto Ci prova lui Goal L'amico di Michelotto L'amico di Michelotto Proprio lui La risolve Mamma mia Che bomba da fuori Ha laggato in quel momento Quindi non so se avete visto qualcosa Mamma mia Il pubblico invisibilio Guarda lì Che scambio Francone ragazzi Dribbling E poi Sul primo palo Sul primo palo Ha laggato eh Porca miseria Guarda lì Apprezziamolo A giro sul primo palo Praticamente Di potenza No di potenza Di potenza Di Tito Di Melfi E adesso Tenere Tenere ragazzi Tenere Facciamoci anche ammonire Prendiamo Facciamo falli Ma Che botta Mamma mia Signori Mamma mia Si doti Secondo me Se non è Man of the match Perché non ha segnato Ma Uno dei migliori in campo Si doti Adesso prende 5 e mezzo Attenzione a Francone Francone Fuori Bella azione Bella azione E L'amico di Michelotto Da quando Gioca Anzi Dall'altro giorno È diventato Fenomenale Ed è un 70 Di overall È proprio È uno dei più scarsi Come overall Ma Ovviamente È il cuore Sì 5 minuti di recupero Vabbè Facciamo una petizione Chiedendo Di non mettere I minuti di recupero Sui giochi Di calcio Per favore Eh ho dovuto Eh ho dovuto Farlo Rosso Rosso Per si doti Uno dei migliori in campo Eh ho dovuto farlo Questo era goal Eh 95esimo Tanto segna 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 lo stesso Questo Via 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 Sì Siamo qualificati Siamo promossi Serie A Signori Serie A Serie A Mamma mia Che sudata Il sacrificio Di sidoti Eh ho dovuto Ho dovuto Serie A Serie A Serie A Serie A Grande Michelotto Cuore Da capitano Gavettoni Di piscio E si Vola Attenzione Sidoti Pur prendendo Il rosso Sette Sarebbe stato Man of the match Sette Francone Sette Matteo Sette Agi Tutti positivi Tra Nestian E Mario Cioè E Ugo Cioni Non lo capisco Sidoti Ha preso il rosso Sette Vabbè Bellissimo Comunque signori Ce l'abbiamo fatta L'anno prossimo Giocheremo Contro la Juve Forse Se non retrocede Adesso Adesso mancano Tre partite Quindi nove Punti Non siamo Primi Ci manca Un punto Per essere Primi Se no Era Sette Grazie A Ma sai che Mi sa che Bagazzi Manca un Punto E E siamo Primi Proprio Primi Però Siamo In serie A Partita Critica Vabbè La prossima La prossima Già di sistema Per la vittoria In campione Ah ok Con che saldo D'animo Affronterete Questo match Così importante Shally C'è la risposta Shally Vinceremo La prossima Partita E il titolo Noi siamo Spocchiosi Signori Questo è l'obiettivo Per cui abbiamo Compattuto I ragazzi Non potrebbero Essere più Motivati Di così Assolutamente Allora Ufficio Allenatore Messaggi La squalifica Di sidoti Beh si sa Avanziamo Andiamo a giocarci Il primo Postolo Sì Scusate Messaggi Su whatsapp Allora Allora C'è Ugo Cione No Mettiamo Amedeo Giustamente Michelotto È stanco Mettiamo Il tudo Va bene Stiano Un po' Stanco Mettiamo Gervasi Mettiamo Tonin Assolutamente Che in super forma Francon è morto Mettiamo Bode Ok Sì Lui lo lasciamo fare Un attimino E va bene Così E va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Così Ma Fatela l'invasione Fatela Mi distraggio bene Con le bottiglie Con le bottiglie Vai ragazzi Vinciamolo Sto titolo Siamo A Verona Chievo Verona Zoccolo duro Ecco Bravissimo Tonin Subito Deciso Dai Paul Che oggi Alzi la coppa Il kume Il bode Hasbrald Mannaggia lui Già Pepper Ritorna a titolare Vediamo Se la partita punitiva Fuori rosa È stata Eh si droga Prima della partita Eh mi dissocio Signore di Twitch Non l'ho detto io È una finta È di plastica Come lo chitti Finto di plastica Bode Hasbrald Paul Mannaggia il fisico di Paul Ci vorrebbe un doping Per il fisico di Paul Un po' di Un po' di Quella sostanza Che usavano I calciatori Negli anni 90 Che non diciamo Perché se no Ci bannano Eh Il prof Guardalo Guarda il prof Gervasi Non abbiamo più Difensori centrali Attenzione Ma ce la caviamo Lo stesso Grande uscita Dalla difesa Che disimpegno Signori Il cume Il tudo Ci prova il tudo Si fermano Perfetto Mi dissocio Mi dissocio dal doping E mi dissocio dal priming Ma anche dal Kevin Durant Ok Basta Per stasera Le ho dette tutte Il doping Il doping Il priming E il Kevin Durant Questa è proprio L'apoteosi Del Della Dell'idiozia Dai Gervasi Si Gervasi Niente Vende vasi Esci Mario Esci Meno male che non sei uscito Dai contropiede Il bode Il bode Attenzione Ma siamo tutti lenti Va bene così Il cume Per Paul C'è il tudo Addirittura il tudo Da mediano Si stacca Il cume Ecco Allora Mi dissocio dal senso Del ruolo Allora Analizziamo questa azione Perché il cume Ha fatto quella cosa lì Doveva andare di destro E il suo piede E tirare un abbordato Sotto l'incrocio E' andato di sinistro In scivolata La logica di Pess No 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 Giorgevich Va bene Va bene Che buco Chi è quello? Signori Giapep F titolo Quello era Giapep Ha visto maglie gialle E dice ancora lo stabia E allora Vendiamoci la partita Anche qua E invece no Eeeh Oh Ma sti falli Vabbè I passaggi magici Del tudo Eh bravo Però Bravo Dai Vai da solo Da solo Signori Ah Ah fallo 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 Ok vai 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 Certo che in conferenza Io mi sono espresso Cioè E niente Alla Ronaldo Dovrei fare una pagina Instagram Si chiama Prendere la barriera su punizione come Ronaldo Proviamo il tudo Attenzione Vabbè Dai calcio d'angolo Prendere la barriera come Ronaldo Dai Una bella pagina sarebbe Attenzione al contropiede C'è Tonin Che contrasta con le sue braccine E poi c'è Il prof Bravo il prof Che tira Calci a vuoto Così Dai Gervasi 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 Bravo Gervasi Ok Grande uscita dalla difesa Se tiro l'agga Dipende cosa tiro Mi dissocio Oh Quello era fallo Eh signori Dobbiamo recuperarla Sta partita Non va bene Non va assolutamente bene Dai Pep Hasbrald No il bode Si era inserito perfettamente Bravo Togno Vai Hasbrald No Oh che passaggi Indecenti Indecenti Paul Il cume No Si era inserito Tonin In un modo Che Claudio Marchiso Ne sarebbe Ne sarebbe Assolutamente Fiero Dai ragazzi Dai Dobbiamo vincerla Per forza Non posso aver fatto Quella figuraccia In conferenza stampa Attenzione Il cume Il Fuori gioco Fuori gioco Mannaggia 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 Di quanto era in fuori gioco Mezza Mezza scarpa Mezza scarpa Mezza scarpa Gian Antonio Mezza scarpa Profilo fake Ci starebbe Gian Antonio Mezza scarpa Eeeh Assolutamente Niente lo vendiamo La prossima offerta Che ci arriva Si Paul Dai Paul Nooo Mannaggia Joe Lobby Bravo Gervasi Ah Non ci arriva Niente Signori Addio al titolo Il cume Dai Dai cume Eeeh Colle più veloce Ma colle Quello della Della Sampedoria Scatta cume Mamma mia Che passaggio Eeeh Amedeo Signori Secondo giallo Dai Dammi il secondo giallo Voglio vederlo Dai Non ci cred Non ci voglio Credere Non ci voglio Credere Questo non è Mai giallo Ma mai Gli ha tirati i capelli Ma non è quello Che gli ho chiesto io Vabbè Allora Mettiamo Jungle Ross Che ti devo dire Eeeh Facciamo Facciamo Così Ok Eh Bodo è unica punta Va bene E lo lasciamo così Sotto la Dai Che babba Eh vabbè Mannaggia Gervasi Mannaggia Non poteva vendere Vasi Bravo Bode Però è unica punta Stiamo perdendo Contro questi qui Eh Rendiamoci conto No C'è quello Si è portato proprio Il pallone No No Paul Sei appena entrato No non è appena entrato Paul però Dai Paul Fai qualcosa di buono Si Tonin Si Tonin Ancora Tonin Si infila Proprio lui Tonin Ancora resiste Con le braccine Michelotto 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 da fuori No C'è il tiro Di Michelotto Bella 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 C'è quando uno Arriva così Scivolata Prende il pallone Tira Sfiorato il palo Mi dispiace Dai tutti su Ragazzi Vai Mario Dai ragazzi Dai Crediamoci Paul Il bode Però non c'è nessuno Oh che passaggio è Eh sta partita è andata Ragazzi Mi sa che se la pareggiamo È già un miracolo Bravo bianco Bravo il bianco Il prof Oh Stava scattando Michelotto Perché sei fermato Perché ti sei fermato Mamma mia 83 84 Il bode Eh vabbè Bravo bianco Dai qualcuno che scatta C'è Michelotto Ci vuol provare lui Paul Niente Oh Vanno tutte Nello stesso punto C'è se tiri da lì Ho detto Non faccio tirare Michelotto Faccio tirare Paul Che è un po' Più di tiro Preciso Niente Sempre lì E niente E niente Poi magari gli altri perdono Quindi Vinciamo lo stesso Il titolo Eh però Dai Dai Paul Dai Paul Paul Traver No vabbè Scriptata Dai ragazzi Scriptata Non può prendere La traversa così Cioè non può Sì Siamo campioni Siamo campioni Lo stesso Siamo noi Siamo noi I campioni Dell'Italia Siamo noi Dell'Italia B Vabbè Calcio B Signori Attenzione Facciamo festa Subito Che partita Scriptata Però Mamma mia Dai Paul Alza la coppa Capitano Alza la coppa Vincitori Serie BKT Zoccolo Duro Paul Heyman Alza la coppa Come Cannavarano Nel 2006 Il più basso Di tutti E Stata partita Serviva Solo che Anche gli altri Hanno perso Quindi Noi non abbiamo Mai centrato La porta Rendiamoci conto Va bene Vabbè Comunque Ragazzi Abbiamo vinto La serie B Eravamo Settimi Eravamo In un periodo Di crisi Incredibile Abbiamo vinto La serie B Ah sì Allora Mancano Due partite Sei punti Eh sì Siamo a più Sette Bene Bene Allora Queste partite Io me le Eh c'è il derby Adesso Ce le Andrei Me le andrei A fare Poco Ma Popopopopopopopo Tranquille Squalifica Di Gervasi Oh Le simuliamo No no Dobbiamo fare Statistiche allora visto che abbiamo già no volevo far giocare male lo faccio giocare lo stesso mettiamo lui mettiamo Sidoti a posto di Giapeppo si il prof mettiamo Bianchini e qua va bene così facciamo giocare per la prima volta Mamen in porta eh si l'ex Venezia contro il Venezia attenzione oh mia questi auricolari fanno veramente schifo vai ragazzi 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 vai si comincia io direi facciamo toccare subito il pallone grande si presenta subito così Mamen incredibile Paul l'amico di Michelotto adesso giochiamo proprio scialli tranquilli Paul per Ugo Cioni Agi Michelotto Paul sempre dietro Paul però scambio con Francone il Cume si gira malissimo prossimo bravo Giangrosso Michelotto c'è Paul bruttissimo passaggio perché era pre-Francone incredibile nooo dai si sono presi a facciate ok bravo l'amico di Michelotto Francone è scattato Paul mannaggia mannaggia lui Agi rientra idea era buona per Francone ma mannaggia Agi veramente non riesce a parte quel golasso bellissimo che ci ha dato la sicurezza della promozione i campioni servono a questo quando c'è da vincere qualcosa loro ci sono guarda Michelotto il Cume Paul perché si è fermato Francone eh brutto bruttissimo Agi per Paul il Cume il Cume resiste di fisico tiro ribattuto Agi si fa anticipare di fisico incredibile non tira fuori il coltello mi dissocio mamma mia Michelotto signori Michelotto Maurizio Michelotto il dominatore del centrocampo in mediana non ce n'è guardalo come morde le caviglie e va a rodoppiare su tutti mamma mia che brutta palla di Agi bravo vai così il Cume Agi ancora il Cume è scattato Francone che gli porta via l'uomo il Cume attenzione il Cume scalda il piedino o scalda una piedina vabbè no avevo detto che era l'ultima la battuta quella di prima non ce la faccio non ce la faccio panariello panariello è dentro me uuuuh tiro alla maledetta del Cume cambia direzione all'ultimo il portiere non può fare altro guarda come si è abbassato all'ultimo bellissimo Agi l'amico di Michelotto di testa attenzione Stian Michelotto chiede palla poi di tacco Paul Agi il Cume calcio d'angolo ancora vai stiamo attaccando Agi Michelotto mamma mia ancora Agi la mette dentro ma non c'è nessuno il Cume Paul mannaggia che pasticcio bravi bravo Francone mamma mia Giangrosso sidoti fine primo tempo eh cinque tiri a zero signori li stiamo dominando ma male 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 dobbiamo migliorare le conclusioni facciamo facciamo troppi tiri senza segnare a volte non becchiamo neanche la porta siamo una squadra di serie B eh però tipo il Cume gli ho messo tanto di tiro attenzione a Paul bravo Paul ah Francone bravo Francone il Cume il Cume sotto la curva sotto la curva non dovrebbe esultare signori il gol dell'ex ma non ce ne frega assolutamente niente qua la capabilità di Francone poi il Cume mezzo a due si è girato nella maniera incredibile entra Zigoni 1-0 zoccolo duro il derby attenzione prende la via zoccoliana invece che la via veneziana attenzione a Paul si è gasato con i dribbling nulla 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 di nulla goccioni bravo bell'anticipo amico di Michelotto Francone è scattato Michelotto signori è scattato Michelotto gliel'ha data malissimo lo scatto era giusto Giangrosso Paul Michelotto no no goccioni cosa ha fatto ok mamen secondo pallone toccato della sua partita il Cume vai Paul dai teniamoli su teniamoli su Michelotto Francone il Cume mannaggia la miseria Michelotto uh uh cosa ha rischiato Francone per Paul bravo per Agi il Cume è scattato Francone ma gli ha dato una pallaccia bravo Francone De Marino Feliciuoli eh non ce n'è non ce n'è ragazzi sotto tutti i punti di vista fallo che slaggazzata signori incredibile bravo Sido via sta palla via sta boccia si ancora Sido ti Francone dai che sei veloce dai Francone fallo fallo lollo eh questo è giallo però questo sarebbe giallo agi per Stian perché non assidoti che mi sono girato da quella parte ma ce l'avevi di vicino costretti a fare falli occhio bravo cos'è mi ha fischiato fallo eh vabbè vuol dire che deve segnare mamen signori che parata dai Roma dai Roma bravo questo è fallo eh signore signor direttore che razza di rilancio bravo vai l'amico di Michelotto perché francone non scatta Gian Grosso Michelotto l'amico di Michelotto Paul Michelotto vuole la sovrapposizione ma poi si ferma dai che è finita dai che è finita ho annullato eh due ore prima ho annullato ok ok ci aggiudichiamo anche il derby bene così migliore in campo Cumenda Veneziano benissimo non abbiamo fatto neanche i cambi ora tanto guarda andiamo all'ultima partita contro il Cittadella sarebbe stato scontro diretto se 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 allora 11 del mese c'è francone e l'amico di Michelotto incredibile Gervasi migliorato Giangrosso è migliorato perfetto budget dai dai stiamo crescendo ok ok no aspetta però questo è interessante premio competizione budget ingaggi obiettivo stagio si si ok ok perfetto ci sta vai ultima partita anche qui facciamo giocare Mamen ha fatto una paratona mettiamo Tonin mettiamo anche il Tudo mettiamo Amedeo mettiamo Sidoti mettiamo Gervasi mettiamo Matteo beh finiamo la stagione non abbiamo più niente da dire siamo tutti in forma quando serve dobbiamo essere in forma comincia a far caldo mi dico mi dico Nassondrio mi dico vai volevo fare il palleggio velo l'amico di Michelotto Francone Paul Tonin Paul Francone la finta di Francone mamma mia che botta ha presa che mano ha pegato che mano ok Paul l'amico di Michelotto vai riprenditi il pallone no occhio ai contropiedi bravo Amedeo a contenere via via sta boccia bravi ragazzi bravo Francone il Cume da solo si sovrappone Tonin il Cume ancora Tonin niente il Cume passaggi quando vuole cioè eh eh fischiamolo un fall cioè sono in 22 a terra bella bello sto schema mi è piaciuto brutto così brutto così Amedeo in collaborazione col Tudo guadagniamo rimessa benissimo Paul apertura magistrale di sinistro per Sidoti Tonin il Cume il Tudo Paul Francone Paul scattato il Cume attenzione no mannaggia accumulativo Francone era bella era bella davvero il Tudo ci prova lui beh 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 appara in due tempi maniero ma le sembra la maniero sono stanco vabbè ce l'avevamo già noi però dai come Francone era per polpo comunque per polpo no che fallo è questo vai Cume Paul Francone ancora Paul si sovrappone il Tudo il Cume il Tudo ah il Cume per Francone è scattato era per Tonin vabbè ho caricato tantissimo perché me la deve fare corta Francone il Cume Paul ancora per il Cume lo scambio il Cume combatte l'amico di Michelotto l'amico di Michelotto combatte anche lui Caparbio incredibile oh qualcuno che si muove attenzione 45esimo 0 minuti di recupero ok sovrastati un po' meno degli altri ma vai ultimi 45 minuti della stagione vediamo di fare bella figura dai oh a vuoto Bianchini Mamen proprio lei Gervasi di esterno sinistro signor Sidoti fa il giocoliere Tonin il Tudo Paul l'amico di Michelotto per Francone lo scatto di Francone scatto bruciante di Francone non va grande pressing al centro campo sulla trequarta avversaria recuperano palla Paul l'amico di Michelotto Paul no cosa ha parato rivediamo grande scambio poi rimpallo ma vabbè come ci è arrivato si è buttato prima Paul dalla bandierina Bianchini di testa ci prova Tonin ma cosa fa Paul la rovesciata da fuori area bellissimo manco fosse Ibrahimović Bianchini Gervasi il Tudo l'amico di Michelotto Francone il Cume fallo quando lo faccio io è fallo c'è da spostare una macchina targata AA 000 AA bravo Bianchini apertura di Tonin col mancino per l'amico di Michelotto Francone perdiamo palla fra un po' faremo anche qualche cambio ma anche no bravo Tonin è scattato il Cume il Cume da solo il Cume da solo la puoi incrociare col sin mamma che schifo mamma che schifo si facciamo entrare il body dai come l'ha incrociata male vai ragazzi mancano circa 20 minuti il Tudo Tonin Pol riceve malissimo Bianchini sistema tutto Tonin bruttissimo attenzione il body è in pressione ancora loro credibile proprio a lui cerca l'anticipo l'amico di Michelotto poi di fisico il body per il Cume è da solo e non sa arrangiarsi da solo purtroppo il body il Cume no i rimpalli ok ok il body fallo 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 ok il body come dammi sta palla il body è rovesciata ci prova proprio lui vorrei farlo un golin rovesciata ma mi manca mi manca o forse l'abbiamo già fatto mi ricordo mi ricordo che su PES quest'anno l'ho fatto un golin rovesciata ma non mi ricordo se sul My Club grande tacco di Paul il body mannaggia body dai pressare dai pressare bravo Gervasi il Cume è scattato Paul lo trattengono Paul Paul Eman Guy sotto la curva sotto la curva guarda gli nostri tifosi tutti uguali signori ormai è fatta che inserimento palla magica del Cume che quando vuole sa farle questi passaggi qua trattenuto lui però resiste e scarica 1 a 0 novantesimo 2 di recupero Gervasi no no bianchini è finita albero è finita spazza e finisce qui ce la portiamo a casa anche l'ultima nostro capitano 9 tiri a 0 direi che segnare bene sono anche le 11 e ragazzi il cittadella si contendeva il primo posto con noi è arrivato quinto non va in serie al cittadella ci vanno Frosinone e Benevento bene Benevento bene migliori 11 in assoluto Cumenda Veneziano e Michelotto e direi di sì direi di sì il cume si è svegliato Michelotto vabbè dominatore incontrastato del centrocampo offerte di lavoro che noi andremo ovviamente a rifiutare allora due nuove giocatori ok Fulham ma mi faccia il piacere mi faccia ok Palmares un campionato di serie B crotone Fulham ok qualche altro messaggio no ok trattative osservazione si comunque budgeting agi ce l'abbiamo fatta siamo in positivo ok salviamo per sicurezza andiamo avanti e concludiamo la stagione poi ci sarà la partita con quelli che si ritirano però la faremo qualche altra volta ecco poi vorrei accettare se mi arrivasse il l'incarico con la nazionale italiana vorrei vincere europei mondiali magari aggiornamento classifica club ok obiettivi stagione riepilogo tutto qua adesso sono stati uno spettacolo abbiamo raggiunto l'obiettivo siamo sempre apparsi in forma smagliante più o meno prevedo grandi cose in campioni come il nostro non avremo davvero limiti va bene quindi il press è contento la base classifica del club a barcellona e real madrid la juve è sesta liverpool manchester city psg noi siamo 148 attenzione siamo davanti anche a squadre di serie a come l'ellas verona e basta no anche lecce basta e la sferona lecce beh per essere una squadra di b serie b ok va bene dai intanto queste cose allora informazioni squadra no non mi ricordo più individuali questo no la mia squadra prestazioni club risultati giocatore allora la difesa è sempre insufficiente perché su sto gioco vabbè allora chi ha fatto gol e assist michelotto tre gol e tre assist da mediano agi un gol e due assist assurdo francone sette gol e tre assist io tre gol e quattro assist il come undici gol e otto assist pol cinque gol e sei assist tonin un gol e sei e due assist il bode sei gol e cinque assist il tudo un gol e un assist l'amico di michelotto sei gol e un assist e si doti un assist bene benissimo no non posso ok andiamo no ancora basta non voglio andare in nessuna squadra frosinone vabbè sarà in serie anche lui però andiamo a concludere sta stagione poi chiudiamo ah ok c'è la partita old boys no allora chiudiamo qui ok oh stian sei arrivato adesso che sto chiudendo abbiamo vinto il campionato di serie b dominato spettacolo una merdaviglia assoluta allora facciamo così ok e ok 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 allora possiamo anche chiudere la live perché sta cominciando a fare caldo molto caldo e che dira che dira bello bellissimo abbiamo vinto vinto il campionato di serie b grandi risultati fa prima questo zocco la vincere la champions che il come a tornare a fare le live no la si purtroppo però vabbè ci sono io ragazzi è che voi dello zocco non seguite me quello è il problema va bene dai ce la faremo una volta essere tutti insieme dai detto questo direi che possiamo anche terminare qui basta non ho più voce troppo caldo troppo allora sono le undici e un quarto il mio fumagazzi non si sbaglia questo è il vero simbolo del potere il cactus della fumagazzi ok dai basta ci vediamo buona serata arrivederci arrivederci ciao ciao ciao